Scania è un'azienda che è nata nel 1891, produce veicoli industriali, autobus, motori per impieghi industriali e marini e ovviamente si occupa del servizio attorno a tutti i prodotti che produce in tutto il mondo. Servizi finanziari, servizi di manutenzione e riparazione, anche servizi assicurativi. Siamo venuti ad Ecomondo per la prima volta nel 2013 e siamo venuti per nove volte, questa è la nonna volta. Guidare il cambiamento verso un trasporto sempre più sostenibile è la priorità numero uno in Scania in questo momento. Lo facciamo attraverso lo sviluppo continuo di motori a combustione interna, compatibili con biocarburanti e anche qui raggiungiamo veramente livelli molto alti di decarbonizzazione, oltre a una riduzione delle emissioni locali. Tre parole per descrivere Ecomondo. Per me Ecomondo vuol dire ambiente, vuol dire squadra, perché siamo qua insieme ai nostri partner e la tercera parola è conoscenza. Qua si impara tanto, si vede in prima mano tanti prodotti nuovi, anche i convegni sono molto interessanti. Grazie a tutti.